Non abbiamo idea di che cosa fare su GTA 5 online, il si può fare ci sta piacendo troppo Quindi doppio episodio di si può fare E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef e che si giochiamo a GTA 5 E siamo tornati con il doppio episodio di si può fare che sta diventando praticamente la nostra serie preferita Senza praticamente Esatto Quindi siamo qui con tantissime altre idee da provare che ovviamente ci avete proposto voi consolini Esattamente c'è tanta altra roba divertente Diciamo che questo weekend pazzo è dedicato al si può fare perché due video su quattro sono sul si può fare quindi è un po' dedicato Allora voglio subito dire una cosa Sull'online non sappiamo bene cosa fare perché ad alcuni di voi piace quando facciamo le missioni del SEO Ad alcuni di voi piace più quando magari ci compriamo una macchina e usiamo un pochettino quella Quindi dateci dei consigli nei commenti su che cosa vorreste vedere nell'online così la prossima settimana sappiamo che fare Esattamente Adesso qua partiamo subito voglio testare una cosa che ci hanno consigliato come sempre Allora ti ricordi quando abbiamo bruciato una macchina? Sì ovviamente L'abbiamo spenta andando in acqua Sì ovviamente E se noi prendiamo una macchina che sta bruciando con questo elicottero si spegne il fuoco? Ah boh Oppure esplode la macchina e se esplode la macchina esplode anche l'elicottero? Ci sono un bel po' di cose Eh sì molto interessante Allora no mi devi lasciare giù secondo me Eh no prima ti porto a una macchina cara Credo Attento a non far esplodere sto elicottero Che non ci ricompare per due ore e mezzo Esatto stai fermo Allora parcheggio Fammi scendere Vai Calmo Prendi una macchina Quale prendo? Allora Una caso cara mia La voglio scegliere bene perché è una occasione importante Scegliamo questa Dalici sopra No Sì voglio vedere il rischio No Vogliamo il rischio qua Vogliamo giocarci per i nichi Sei una persona terribile vado Dai Vai mettere fuoco Secondo me esplode prima che la prendi eh io te lo dico Ma gli hai messo fuoco? Sì stai già prendendo fuoco Io qua non vedo fuoco Ma sei fuori? Ah ora sì ora sì ora sì Sta bruciando tante Ti ho mancato Ecco qua Ti consiglierei di scendere Ti consiglierei di scendere Però c'è scappa Ok Almeno non sei morto dai Sei una persona terribile Volevi farmi esplodere nella macchina Ma sai quanto è difficile acchiapparti? Ma l'idea Eh lo so Allora secondo me ti devi prima avvicinare Ok Quando sei vicino io le do fuoco Salgo e cerchi di prenderla subito Ok E mentre sto vedendo se ti posso acchiappare a te Non provarci Scusi Ti sparo e ti faccio perdere Ti posso pescare? Perché mi uccidi con l'elica e smettila Ti posso pescare? No non si può Ok Perché se non ha donzelle non si possono pescare le donzelle con gli elicotteri Non è che capito Tu vedi una ragazza e la peschi con un elicottero Magari sì No non si può fare Sarebbe un ottimo metodo da bordaggio ok? No Sarebbe decisamente più bello Se lo fai poi ti becchi una denuncia e ti arrestano Non si può fare Te lo dico io Fidati di Feriniti La polizia ti sta cercando Lo so Se quello acchiappo Non ho fatto nulla In effetti era un altro tipo fare che dobbiamo fare Aspetta un attimo Vai Allora Si può acchiappare la polizia? Cioè che cosa vuoi fare? No vedere cosa fanno dopo che li acchiappi Se si lanciano giù O se rimangono nella macchina acchiappata Io mi sto godendo la scena qui da spettatore E continuano un po' a muoversi Sono dei birichini Allora questi qua non li li cottano dietro Oh E fanno finta di nulla Oh si sono arrabbiati Stanno facendo qualcosa? Eh no Secondo me stanno per vomitare perché si sballonzo un sacco la macchina Direi No sì li vedo lì seduti Sto controllando Scusi polizia tutto bene? È una bella giornata? Ci sto bene qui Siete sicuri di voler scendere? Io non lo so Ma dai un tour panoramico così bello Non è che ti capita tutti i giorni Che sono tranquilli perché hanno visto il nostro video che non si esplode Ah ecco Vai andate pure Ci fa piacere che seguite il canale Eh amici miei però dovevate stare dritti Sono esplosi? Sì Non sono bravi quanto offre i nichi Cioè qui ci vuole una certa destrezza Per riuscire ad atterrare dritti senza esplodere No boi non vi toh Hanno lasciato lì al volante Sì è impiennata la macchina e via Allora chiamo un attimino a Lester che c'è la polizia Quindi si possono prendere le macchine dalla polizia E si possono prendere mentre c'è la polizia E la polizia resta dentro se li acchiappi Io pensavo si buttassero dalla macchina o qualcosa del genere No perché è presente che capita che magari rubi una macchina Il passeggero non fa in tempo a scendere E allora rimane con te E solo quando poi ti fermi esce fuori scappando Ok 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 Quindi ero sicuro che si è passata la stessa cosa Ah ma tu hai una macchina lì pronta? Sì certo io ho già fatto tutto nel frattempo Arrivo Super funzionale io Arrivo 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 Vai 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 Sì Siamo vado Ok Accesa? Concentrazione Sì un attimo Ok devo farlo bene perché sennò non prende fuoco Vai vai ci sono Anche io no? Ti prego prendimi No Scappa 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 Corri 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 Ok vai Vado Ok Vado Vado Allora Allora Devo andare con calma Devo capire che comunque Ho il mio tempo L'ho presa? Ok ok sì vai 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 Alzati alzati Ti prego non esplodere che ci serve questo elicottero Ti prego non esplodere Per ora non sta esplodendo A me sembra che si stia spegnendo ti dico la verità No ragazzi Io non ci credo che Ok Io sono esplosa tu? No Ok Ok All'inizio ho pensato stesse spegnendo perché aveva fuoco solo nelle ruote di dietro Invece poi esplosa e sono morta Stavo dicendo non ci credo che funziona è troppo epico e si esplosa Ci sono rimasto malissimo Allora vuol dire che non si può fermare l'esplosione della macchina se la prendi con l'elicottero Ma l'elicottero non esplode E questa è una cosa buonissima perché avremmo dovuto aspettare una vita per riavermi un altro Allora praticamente adesso tu devi prendere un elicottero e andare in alto Ok 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 Io devo prendere una macchina con questo mio elicottero Andare più in alto di te e farti cadere la macchina addosso Se esplodi Non ce la faremo mai Lo so Però dai siamo riusciti a fare questo che era difficilotto Quindi possiamo fare tutto nella vita Perlomeno mi ha detto la mamma che non lo so se è vero Ma è Natale Guarda Oh che bello Una nuova di zecca Sai cos'è? Sai cos'è? Che i consolini sono talmente felici Che noi abbiamo fatto il secondo Che fanno spawnare l'elicotteri Questa è la forza dei consolini Tu non lo stai mai chiedendo È un potere strano però c'è da dirlo Consolini Eh ma è ovvio che loro hanno i poteri Cioè che ti credi che siano dei consolini Eh ma non potrebbe avere dei poteri per farci diventare ricchi? No? Oppure belli non lo so Anche quello potrebbe andare bene Belli sarebbe meglio sì In effetti È perché poi se è bello diventi ricco No però hanno il potere di portarci fortuna Ed è giusto Ok Mica tutti hanno i fan Che gli portano fortuna nei video Ma che scherzi? Mentre puoi venire per favore? No il fatto è che io spawno dall'altra parte dell'aeroporto Ok E c'è tutto un cancello intorno Quindi non riesco più a rientrare Per quello sto prendendo tempo parlando Ah ah E quella è la tua soluzione? Sì esatto Devi venirmi a prendere Non trovo l'entrata Ma dai ma avevo già preso la macchina io Aspetta Ma come faccio? La parcheggio Ci sono fuori Arriva arriva C'è il cancello Vai nella spiaggia Vai lì nella spiaggia Arrivo a prenderti Vado Sì Allora occhio che si muove un po' da solo Quindi boh vedi te È molto pesante questa specie di fuoristrada Ok Ci sono ci sono ci sono Tanto mi devo basare sulla minimappa Devo essere perfettamente sopra di te Ok Con la minimappa Aspetta mi devo concentrare Eeeh Dove sei? Ti prego Ti ha preso le eliche? È passato in mezzo alle eliche No non mi ha sfiorato È passata in mezzo alle eliche Ah È difficile perché io non mi posso muovere Capito? Quindi non potendomi muovere Non è che ti posso venire incontro Lo so Ci riproviamo Ci riproviamo Dai 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 Ce la facciamo Prendo un'altra macchina Ci sono vada 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 Vai 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 Ce la facciamo Allora Secondo la minimappa Sono perfetto Arriva la macchina Ti prende in pieno Ti prende in pieno Ok Ok È fatto Cioè non esplosa Nella macchina Nell'elicottero Perché ha proprio ammortizzato La caduta della macchina Esatto Ti giuro Ti giuro Allora Avrei detto tutta la vita che esplodevi Abbiamo capito Che gli elicotteri di GTA Sono a prova di macchine volanti Perché tu non si sa mai che se viaggiando con l'elicottero ti cade una macchina sull'elicottero Non esplodi Almeno sai che non esplodi Esatto E non esplode neanche la macchina Quindi doppia fortuna Doppia cosa fighissima E ci sta Io sono scioccato Cioè ero sicuro al 100% che se ti prendeva se si esplosa Questo ero sicuro Mi sembra un po' logico E invece non si esplode Ti ha proprio preso in pieno E ho visto benissimo Io praticamente tengo la telecamera verso di te Quindi ho visto proprio la macchina a cascare E mi ha totalmente preso in pieno Cioè totalmente Va bene Ok Ci sta Ci sta Non l'avrei mai detto nemmeno io Però ovviamente GTA ti sorprende Per questo che sono bellissimi Ti sorprende sempre Nel bene e nel male Nel bene e nel male Scusami ma ci devo riprovare Di nuovo Cioè è già fallito È questione d'onore Vado Non era previsto Consolini Cioè io non lo so Perché ti ascolto in queste cose Non posso accettare Non lo so Non posso accettare questa sconfitta Né per me né per i Consolini Allora Allora Dai Steph Dai Steph Ma ti dovevi Ti dovevi mollare Cioè cadere lì Ma si può togliere il paracadute con un tasto? Prova Allora aspettate Non voglio Ecco qua lo prendi Però sono atterrato Di faccia Vale Vale a tenere No no vale Non vale Non vale È il mio momento Ce la faccio Ce la faccio Mi son buggato Ok ci sono Allora Miriamo Non devo aver paura Soprattutto se premo E Mi toglie il paracadute Secondo me sì Allora Però non ci contare troppo Quindi Fai attenzione Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Che poi secondo me, ripeto, continua a essere una cosa che gli altri vanno facilmente nei due ore esultando Ci insulteranno tutti, ma non me frega nulla Che soddisfazione incredibile Vedi, allora accertato al 100% si può fare Io ti giuro, non avrei mai creduto che ce la facessi Quando ti ho visto in piedi, ci ho detto no, no, no Ho esultato talmente tanto che il personaggio poi è cascato Eh, l'ho visto, ho visto Volevo anche restarci sopra però Stava cadendo e rotolando giù dalla ruota, vabbè Epico, epico Ti ricordi nello scorso episodio quando per concludere abbiamo chiamato la polizia dopo aver provocato una rissa e la polizia ha ammazzato i cilili? Certo, certo, mi ricordo E se ci proviamo con i vigili del fuoco? Ok, spiega Nel senso che noi chiamiamo i vigili del fuoco, li facciamo arrabbiare, ok? Ok Chiamiamo la polizia e cerchiamo di far ammazzare i vigili del fuoco dalla polizia È trescissima sta cosa, è terribile Lo so che è terribile, è proprio di pessimo gusto Esatto, però ci proviamo lo stesso Perché voglio vedere, teoricamente dovrebbero essere alleati, capite? Un po' come con un'ambulanza, non dovrebbero Eh, non è che i poliziotti te la prendi col col vigili del fuoco Eh, brava, bravissima Bravissima, quindi voglio vedere se sono così pazzi i poliziotti di GTA V Secondo me sì, perché sono molto fuori di testa Anche secondo me Ci può stare, vedremo, vedremo Sarà molto divertente Allora, aspettiamo prima i pompieri Appena arrivano inizia a chiamare anche la polizia Anzi, inizia a chiamarli tu Inizia a chiamare la polizia Ok, ok, mi sa che sia giusto così dividirci le cose, no? Sì Ciao vigili, ciao, ciao, ciao Come state? Allora, aia Salve, salve, salve Dobbiamo riuscire a farle arrabbiare Come facciamo? Così Guardami Aspetta, aspetta Scusi, no, c'è questo dietro Non le posso dare un pugno Guardi, salve Non possiamo dare Guardi, sto facendo colere Brava, brava No, no, ma l'hai vestita Aio Stai vestendo i suoi colleghi? Allora Ok, ce l'hanno come? Eccolo, eccolo No, mi sta pestando Corri, 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 corri Dove è la polizia? Polizia Dimmi che l'hai chiamata Certo che l'ho chiamata Dove è la polizia? Non ci sono Non vorrei che se ne sia già andata Allora, aspetta Dai, dai che ce l'ha con me Continua a correre in tondo No, beh Continua a provocarlo, eh Se vedi che se ne sta un po' andando Li riveli addosso in shift E continui così Esatto Dai, 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 bravissima Ne ho due addosso Ogni tanto prendo un pugno Per farli felici Perfetto Ok Guardalo Ma mi stanno pestando malissimo Muoviti Sta arrivando la patuglia Sta arrivando la patuglia Devi resistere ancora I pompieri I pompieri mi hanno attaccato Mi hanno attaccato Aia Polizia Aia Polizia mi ha steso Polizia Polizia Polizia, guardi Guardi, mi sta dando dei pugni Polizia Polizia, mi sta uccidendo Polizia Aspetta, lo porto qua Vieni, seguimi Guardi, mi ha dato un pugno Un altro Cosa fa? Polizia Ma fanno qualcosa Attenzione È sceso Ha sparato a te? Non ho parole Hanno sparato a te? Hanno sparato a me Non hai capito Che dopo che hanno sparato Ok Il pompiere è scappato A gambe elevate Non ho più idea Di dove siamo No, mi è passato davanti adesso Stava scappando Come una femminuccia Quindi sono alleati E sparano Un innocente civile Che viene preso a pugni Da un pompiere Io sono Cioè, la polizia esce Allora, non gli hai dato mai neanche un pugno No Sono rimasto fermo a farmi dare i pugni E non avevo stelline Perché stavo guardando tutto il tempo lì Ok, e neanche io ne avevo Appena il poliziotto è sceso Mi ha dato una stellina Ha sparato a me invece che al vigile Cioè, assurdo È la cosa che mi sarei mai Cioè, non mi sarei mai aspettato Neanche questo Dopo l'elicottero che non fa esplodere No, aiuto Cioè, quindi sono davvero alleati E non è possibile far ammazzare un pompiere Da un poliziotto di Los Santos Sì, a parte quando si investono da soli Ma vabbè, quello c'è Vabbè, quelli sono fatti loro Però sì Ha dato sulla fiducia la ragione Al vigile del fuoco, capito? Quindi, nella vita reale Non far arrabbiare il vigile del fuoco Che poi la polizia arriva e ti spara Sì, esatto Ok Non devi mai provarci Che strano Cioè, i civili poveracci L'ha sparato senza ritegno Sì Invece così sarà preso Infatti, come ho visto che ha sparato a te Ho fatto un anno Allora, lo voglio riprovare in un altro episodio Perché comunque voglio togliermi al 100% il dubbio Però sono sicurissimo Eh, io non ho potuto continuare Volevo continuare Solo che ho iniziato a scappare via È screndato, capito? Non sono più riuscito a prenderlo Era velocissima Perché te devi riuscire a centrarlo correndo, capito? Ma era troppo veloce, capito? Quindi l'ho lasciato perdere Comunque, dai Direi di farci così È stato davvero epico Continuate a consigliarci nei commenti Tantissima roba Così noi continueremo A mettermi nei commenti E a fare di GTA Si può fare sempre più fighi Speriamo che il video vi sia piaciuto Speriamo che abbiate apprezzato appunto L'idea di portarne due questa settimana E speriamo appunto Che nei commenti ci consiglierete Cosa fare nel GTA Online Ho repato tantissimo Quindi adesso non ho più fiatto Quindi di qualcosa? Ok Beh ragazzi Gesù, così si è già Senteci un like E se è la prima volta che ho avuto Il nostro video potete considerare Il video di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao